Io e te, siamo una cosa sola, da te la mia mente vuole, ogni volta che stiamo distanti, io e te. Ragazzi, ecco il mio grandissimo rammarico che vi avviso che Gerson se n'è andato. E' andato lì dove tutti vogliono andare, dove tutti sognano un giorno di approdare, al Flamengo. Chi è che non ha mai detto voglio andare al Flamengo? Beh, Gerson l'ha detto, perché Gerson vuole andarci. Tutti vogliono andare al Flamengo, tra l'altro qui c'è tipo un animale, ma che schifo, vabbè. Gerson vuole andare al Flamengo come tutti, Gerson ha ottenuto di andare al Flamengo. Io sono commosso per vedere un calciatore a realizzare il sogno che aveva fin da bambino, perché tutti vogliono giocare al Flamengo. Qualcuno me l'ha detto, guarda, sì, ma è normale, perché è il sogno di tutti i brasiliani andare al Flamengo. Certo, ma io non lo metto in dubbio. Peccato che Vinicius sia arrivato a Real Madrid, quindi insomma, perché Gerson volesse andare al Barcellona prima di arrivare alla Roma. Regà, parliamoci, ci siamo tolti dalle palle Gerson facendo anche una discreta plus Valenza, mi fa bene così. Quindi io capisco che il sogno di un brasiliano da piccolo è andare al Flamengo, ma se poi arrivi alla Roma che ti sa giocare alla Champions League. Eh, ma la Roma non è che... no, l'anno scorso è giocata alla Champions League, regà. Quindi parliamoci chiaro. Poi, va a giocare alla Fiorentina, possibilità di crescita, punti ad andare al Barcellona, ti presenti che ha la maglia di Acide Totti. Regà, parliamoci chiaro, cioè nel senso non è che il tuo sogno non rimane nel Flamengo, ok? Cioè il tuo sogno, proprio il massimo, quello che sognano tutti è andare al Real, andare al Barça, andare... Ti è alla Juventus adesso che negli ultimi anni è ancora diventata più forte, perché poi, tipo dieci anni fa, la Juventus era al di là dei calciopoli, post-calciopoli era un pochino crollata, eccetera. Adesso la Juventus ha preso il posto del Barça, quindi dopo il Real c'è la Juve, poi il Barça, quindi... A livello di... di voler andare, anche perché c'è Cristiano Ronaldo. Però di che parliamo? Il Flamengo, ragazzi, il Flamengo. Io voglio andare al Flamengo, io... Comunque tra l'altro è partita la moda, proprio è... Esplosa la moda al Flamengo, ho letto pure che Diego Costa vorrebbe andare al Flamengo. Tutti al Flamengo, lo so, quest'anno fanno la Champions League, perché il Flamengo quest'anno è messa all'Europa e fa la Champions League. Comunque sono contento che ce lo siamo levato dalle... Sono contento che l'abbiamo citato tutto, anche perché così coroniamo un suo grande sogno. E poi più che altro finalmente riusciamo a monetizzare, anche perché era un giocatore che a Roma era praticamente inutile, duttile nel fare schifo in tutti i ruoli. Ho fatto il video che era ruota la Dinamo Mosca, ma non era andata la Dinamo Mosca? Sì, speravo, invece alla fine ce l'hanno appioppato, cioè hanno detto no, 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 ci hanno ripensato. Lui ha detto il Flamengo, lui invece allora era di andare via, noi invece avevamo uno che si levava nei coglioni e lui dice che non era d'accordo, era la Dinamo Mosca e manco lo sapevano, c'era nemmeno a trattare la Dinamo Mosca. Cioè tipo, noi c'eravamo un ventato che era da tanti, io ho fatto il video e ho detto magari a Dinamo Mosca viene il video e dice quasi così, ovvio, Cerson. Invece no, poi alla fine è arrivato il Flamengo, per fortuna, perché ragazzi tutti vogliono giocare nel Flamengo. Comunque sono contento a parte degli scherzi, perché comunque non è un giocatore da Roma, in questo momento almeno. Magari poi farà la fine di Bruno Fernandes, che va a uno sport in Grisbona, a fare una stagione così tanto per, fa 73 gode centrocampista, e va a giocare l'Europa che conta con il Bayern Monaco, però per il momento Cerson non era un giocatore da Roma, non era un giocatore che volevo nella mia Roma, era un giocatore che si lamentava nonostante la sua scarsezza, nonostante la sua non preparazione, nonostante la sua scarsa preparazione in campo, nonostante la sua scarsa intelligenza, quindi sinceramente sono contento che l'abbiamo venduto. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, regà mi raccomando iscrivetevi in massa, qualora l'aveste ancora fatto, bocciolala da me da questo animale simpatico, dov'è? E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, ciao regà, buonanotte, buongiorno, vabbè ciao.